Uno è orizzontale, uno è... E uno è... Esatto. Il frame, per le applicazioni. Le corvigie, le cose per ogni tipo. No, non lo so. Non lo so. Ci saranno, ci saranno, ci saranno. Ci saranno, ci saranno. Ci saranno, ci saranno, ci saranno. Ci saranno. Vi faccio vedere, ma... No, dai. Ci chiamiamo. Francia. Francia. Carlei. Carlei, sono 500 km. Primo Sicilia. Carlei. Carlei. Si vai in Francia, sei da noi. Ci sono i piedi, i piedi, i piedi. E sono i piedi, i piedi. E sono i piedi, i piedi, i piedi. E sono i piedi, i piedi. E poi la città. E poi la città. E poi la città. E poi la città. È un città, ma se ti stai già 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 il nostro paese. E quindi. E poi, quando ci saranno, c'è questa, la città, la città, la città è una situazione. non è vero, non è vero la compagnia lo saprà non è vero, non è vero non è vero non è vero, non è vero non è vero, non è vero sono con la x non so cosa significa non so è possibile che con la x con la x con la x con la x ecco, adesso vi faccio veder tutte le paletti che vuoiれない, Kid.. wj Qui c'erano entro i tuoi parecchi, di tutti i profili. Quali sono queste cose? Questi ricordi? Sono quelli che... Tutto faciliti cosa vuoi. E come sto bruciando, sto frangendo.